Angelica ho finito di leggere il libro dei numeri e adesso ho visto che comincia il libro del deuteronomio tu sai di cosa si tratta non lo so non ho ancora letto niente però prima di iniziare secondo me sarebbe meglio che Don Mirko ci spiegasse un po' in generale questa cosa ma Don Mirko ciao Angelica ciao Susanna ciao dove siamo arrivati con la Bibbia adesso siamo arrivati al deuteronomio deuteronomio è difficile il nome però l'abbiamo letto tutti bene no ecco sì sì di cosa parla questo libro allora facciamo il punto della situazione noi nella nostra lettura della Bibbia abbiamo affrontato il libro della Genesi quindi la storia delle origini e le storie dei patriarchi Abramo Isacco Giacobbe e poi Giuseppe Giuseppe in Egitto con cui si conclude il libro della Genesi Giuseppe in Egitto e la sua discendenza diventano così numerosi che il popolo degli ebrei risulta agli occhi degli egiziani un popolo potenzialmente pericoloso gli egiziani decidono di tenerli come schiavi Dio chiama Mosè e suscita la sua persona per liberare il popolo Mosè libera il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto il popolo comincia la sua traversata del deserto verso la terra promessa una parte del libro dell'Esodo tutto il libro del Levitico e l'inizio del libro dei numeri sono un blocco un fermo immagine nella nostra vicenda perché il popolo è presso il Montessinai dove riceve la legge nel contesto dell'alleanza tra Dio e il popolo di Israele perché questo blocco così così grande in questi primi libri della Bibbia perché la legge dicevamo è davvero fondamentale per Israele la legge è una legge di vita per la fioritura del popolo di Israele e di ciascun israelita questo blocco termina e nella parte finale del libro dei numeri che noi abbiamo visto recentemente abbiamo ancora il popolo che è in marcia nonostante mille difficoltà la mancanza di acqua le ribellioni i serpenti verenosi e così via nonostante tutto questo il popolo un po' alla volta arriva fino alle soglie della terra promessa abbiamo visto anche come Mosè praticamente riceva da parte di Dio questo annuncio direi anche triste che tu Mosè non sarai di quelli che entrano nella terra promessa tu morirai prima dall'alto potrai contemplare la terra promessa ma non sarai tu a guidare il popolo Mosè ha già indicato come successore Giosuè che è la persona giusta ha le carte in regola per essere fedele a Dio fedele al popolo un combattente vittorioso generoso onesto e tutto quello che volete lo ha già indicato come successore a questo punto di fatto ci manca di raccontare gli ultimi momenti della vita di Mosè il libro del Deuteronomio che con questo nostro incontro iniziamo è ambientato nell'ultimo giorno di vita di Mosè in questa finzione narrativa letteraria tutto il Deuteronomio è ambientato nell'ultimo giorno di vita di Mosè e Mosè ci lascia il suo testamento per così dire in tre grandi discorsi che sono presenti nei 34 capitoli del libro del Deuteronomio Mosè ci lascia le sue ultime indicazioni perché il popolo si mantenga fedele a Dio fedele all'alleanza e sappia rispettare tutte le leggi che Dio ha dato il tono generale di questo libro è molto diverso rispetto alle narrazioni che abbiamo trovato finora nella Bibbia togliete la parte di leggi ma la parte delle narrazioni ha uno stile molto diverso rispetto al libro del Deuteronomio che ha uno stile diciamo noi ridondante vi faccio solo un esempio quando Mosè dice mi raccomando osservate tutte le leggi le norme i precetti che il Signore vostro Dio nostro Dio ci ha dato quindi questo insistere sulle leggi le norme i precetti e così via e questo continuo insistere sull'alleanza sulla fedeltà all'alleanza è qualcosa che punteggia continuamente questo libro quindi non è facilissima la lettura perché ritornano sempre gli stessi concetti direi che a questo punto abbiamo introdotto il libro del Deuteronomio con questo testamento di Mosè potremmo leggere il primo brano che è quello che noi chiamiamo lo Shema Israel ma scusa un attimo cosa vuol dire Shema Israel? brava Angelica non hai ancora studiato l'ebraico biblico però sei pronta per studiare l'ebraico biblico bene Shema Israel vuol dire ascolta Israele Shema è una forma un imperativo dal verbo Shema che vuol dire ascolta la dimensione fondamentale dell'uomo biblico è l'ascolto la preghiera per il credente arriva in seconda battuta rispetto a Dio che ha parlato e se Dio ha parlato quello che l'uomo può fare è ascoltare allora prima di tutto questo Shema Israel vuol dire ascolta Israele leggiamo adesso qualche versetto e siamo arrivati al capitolo sesto del libro del Deuteronomio questi sono i comandi, le leggi, le norme che il Signore vostro Dio ha ordinato di insegnarvi perché li mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso perché tu tema il Signore tuo Dio ma scusa se ti blocco, cosa vuol dire, cosa si intende per temere Dio? sì, sei intervenuta a gamba tesa ma su una cosa fondamentale cioè Mosè dice in questo suo testamento tutto quello che Dio si raccomanda di fare in pratica consiste alla fine dei conti nel temere il Signore e cosa vuol dire temere il Signore? non vuol dire avere un atteggiamento di paura paura dei castighi, qualcosa che ti blocca ma temere il Signore potrei dire è quell'atteggiamento per cui tu hai un rispetto per Dio tu nella tua vita fai sempre i conti con Dio nel fare delle tue scelte provi a chiederti ma cosa direbbe Dio cosa farebbe Dio al posto mio, cosa Dio mi consiglia cioè tu tieni sempre presente come orizzonte della tua vita la presenza di Dio vuol dire riconoscere la grandezza di Dio, avere un atteggiamento di riverenza verso Dio un atteggiamento di rispetto, tutto questo a mio parere vuol dire temere Dio ma ripeto non vuol dire abbiate paura di Dio ma vuol dire sentite che Dio c'è, è presente, è una presenza importante nella vostra vita ecco allora dice è importante che tu tema il Signore tuo Dio osservando per tutti i giorni della tua vita tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni notate in questo così si prolunghino i tuoi giorni quel classico motivo ricorrente nel libro del Deuteronomio il popolo è continuamente richiamato da Mosè all'osservanza dell'alleanza se tu osserverai l'alleanza, se tu sarai fedeli a Dio allora arriverà la benedizione che vuol dire lunghi giorni, nessuna guerra, nessuna malattia raccolti abbondanti, il ritmo della natura perfetto ma se tu, dice Mosè, non rispetterai l'alleanza popolo di Israele, allora i tuoi giorni saranno brevi suberai i castighi, perderai le battaglie e arriveranno su di te tutte le sciagure quindi una visione anche così condizionata cioè la benedizione è garantita se tu rispetti la legge di Dio se invece tu non la rispetti sappi che arriverà naturalmente la sventura e continua Mosè dicendo ascolta o Israele e bada di metterli in pratica perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto vi chiedo di sottolineare questo inciso perché tu sia felice tante volte noi parlando delle leggi di Dio chiediamo ma perché l'uomo è chiamato a rispettare le leggi di Dio e di solito facciamo grandi costruzioni teologiche grandi paroloni eccetera ma qui è molto facile il discorso osserva le leggi di Dio perché tu sia felice e cioè ritorno a quel tema molto importante che la legge è principio di vita principio di fioritura del popolo nel momento in cui tu rispetti Dio e la sua legge non puoi che portare del bene nella tua vita portare ordine nella tua vita appunto perché tu sia felice e di cosa è che andiamo in cerca se non in fondo di felicità? la pretesa del discorso di Mosè e in generale della Bibbia è che la felicità si ha nel momento in cui si segue Dio si ha timore di Dio si riconosce la presenza di Dio e senza grandi patemi insomma si cerca di rispettare la sua legge che non è una legge arbitraria ma è una legge che chiede a noi di dare il meglio di noi stessi per gli altri per il Signore e nella nostra vita e adesso arriviamo propriamente allo Shema Israele vedete l'inizio del versetto 4 eccolo qui ascolta Israele Shema Israele il Signore è il nostro Dio unico è il Signore qui abbiamo una professione si dice di monoteismo cioè guardate che il Signore è uno solo e quindi solo Lui dovete adorare non dovete avere altri idoli al tempo di Israele come dicevamo già parlando dei comandamenti altri idoli erano altre divinità in senso proprio ai nostri tempi altri idoli vuol dire attenzione a non puntare nella nostra vita a qualcosa che non ha la grandezza di Dio può essere la fama può essere il denaro può essere la bellezza può essere la perfezione fisica non lo so cosa ma sono tutti idoli che rischiano di rovinare le nostre vite in una rincorsa senza freni dove alla fine andiamo a sbattere allora penso che sia importante sottolineatelo il Signore è il nostro Dio Lui solo è il Signore e tutto il resto direi è relativo è relativo e non può essere la meta il traguardo delle nostre vite altrimenti davvero andiamo a sbattere e scopriamo magari in tarda età di aver puntato tutta la nostra vita su qualche valore che non era così importante tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore con tutta l'anima e con tutte le forze ma prima abbiamo parlato di cosa si intende per temere invece amare in che senso? sì anche qui la tua domanda davvero mi permette di aprire una parentesi importante Mosè dice mi raccomando ama il Signore tuo Dio e ama sul serio cioè dice con tutto il cuore con tutta l'anima e con tutte le forze si è tanto discusso negli ultimi secoli cosa poi voglia dire con tutto il cuore con tutta l'anima con tutte le forze sicuramente non è solo qualcosa di mentale è qualcosa che ha a che fare con tutta la mia vita tanto che qualcuno dice con tutte le forze vuol dire con tutte le tue sostanze quindi aiuta Dio contribuisci attraverso anche la tua ricchezza alla causa di Dio con tutto il cuore con tutta l'anima vuol dire non solo con il sentimento ma proprio con la volontà e anche con dei gesti concreti e allora mi permetto di dire che amare il Signore non è solo qualcosa che ha a che fare con il sentimento ma amare Dio potremmo tradurlo quasi sempre nella Bibbia come servire Dio essere devoti a Dio anche con gesti concreti quindi è molto meno un amare sentimento come tenderemo a pensare noi amare Dio vuol dire proprio servire Dio darsi da fare per Dio e naturalmente per i suoi figli quindi la dimensione della carità della comunità dello sforzo e direi anche molto concretamente del tempo speso ad esempio nel volontariato del tempo speso nel servizio agli altri in gesti di carità di condivisione e di solidarietà come pure in tempi di preghiera di culto di rispetto per Dio e di amore per Dio tutto questo vuol dire amare Dio quindi vedete che il prima temere Dio e adesso amare Dio hanno significati più complessi di quello che noi potremmo pensare a una prima lettura e poi Mosè continua e dice questi precetti che io ti do ti stiano fissi nel cuore li ripeterai ai tuoi figli ne parlerai quando ti troverai in casa tua quando camminerai per via quando ti coricherai e quando ti alzerai cioè praticamente questi precetti queste leggi di Dio non devi trovarle scritte in qualche libro quando avrai bisogno di pensare cosa ha detto Dio ma devono entrare nella tua stessa vita devi conoscerli davvero con estrema naturalezza come ciascuno di noi insomma conosce subito il nome dei suoi amici delle persone che li vogliono bene eccetera cioè tu devi avere questa familiarità e questa estrema confidenza con le leggi di Dio perché sono importanti per la tua vita e poi dice te li legherai alla mano come un segno ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte attenzione che in questo versetto si dice qualcosa che poi è stato preso alla lettera dagli ebrei cioè gli ebrei hanno degli astucci che tengono sulla fronte e praticamente sul gomito sinistro in questi astucci che sono legati al corpo tengono alcuni passi importanti della Torah come ad esempio questo ascolta Israele il Signore è il nostro Dio il che vuol dire che la parola di Dio è sempre legata alla nostra vita e non solo li avrai tra gli occhi e alla mano quindi sulla fronte e qui sul gomito ma li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte ed è una prassi presso gli ebrei di attaccare allo stipite della porta anche qui una scritta oppure un contenitore che al suo interno ha dei versetti della Torah per dire che la porta di casa questa porta che segnala l'ingresso e l'uscita fa sì che ciascuno sia sempre sotto la presenza della Torah della legge di Dio quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nella terra che aveva giurato di darti con città grandi e belle che tu non hai edificato case piene di ogni bene che tu non hai riempito cisterne scavate ma non da te vigne e oliveti che tu non hai piantato quando avrai mangiato ti sarai saziato guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile quest'ultimo aspetto mi sembra bellissimo Dio dice ricordati che tu nella tua vita ti sei sforzato ma tante cose le hai ricevute in dono tu entri nella terra promessa che tu non hai coltivato entri in città conquisti città che tu non hai costruito e il rischio è quello di credere che tutto ciò che tu hai ricevuto sia a merito delle tue fatiche e dei tuoi sforzi non dimenticarti che tutto questo è dono di Dio e non credere di essere tu l'artefice in qualche modo di questo successo e di queste vittorie e l'ultimo invito guardati dal dimenticare il Signore e questo è il grande rischio per tutti noi soprattutto quando le cose vanno bene quando non ci sono problemi rischiamo sempre di dimenticarci di Dio ma già Mosè lo aveva capito e ce lo ricorda proprio in questo bellissimo brano del libro del Deuteronomio e questo è il grande rischio